Grazie. 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 You can see one of the UAV attack the facility. And the direction was from the north to the south. This attack did not originate from Yemen, despite Iran's best effort to make it a bare so. Their collaboration with their proxy in the region to create this false narrative is clear. Secondo, l'attacca era lancato dal nord, e era imparato da l'Iran. Questo UAB è l'Iran, UAB, Delta Wink, e tutti i componenti che abbiamo recoperto, che avevamo utilizzato, e queste sono alcune delle semplicazioni che abbiamo mostrato, e abbiamo già fatto l'analisi. Questo, qui, da l'ultimo, l'attacco di l'attacco, e abbiamo riempito tre, excepto uno. ... ... che hanno detto che non è chiaro che l'Iran si è scoperto. ... ... Grazie per la visione